Io penso che i vaccini vanno fatti ai bimbi, soprattutto per essere tutelati e magari, non lo so, avvolgere meglio i loro sentimenti, le loro emozioni, non so neanche come, tutto lì. Per me io sono a favore comunque per i vaccini. Cosa ne pensate? Un atto forte di rottura col nuovo decreto? Io penso sia una c***a assurda. Cioè, i vaccini, assolutamente pro vaccini, mi dispiace, per cui... Anch'io uguale, anche perché i vaccini si sono sempre fatti senza nessun problema fino ad adesso. Ci sono stati dei casi in cui ho sentito che c'è qualcosa che non è andato benissimo, ma tutti gli altri è sempre andato tutto bene. Abbiamo sconfitto anche delle epidemie, un sacco di cose, quindi... Ho fatto vaccini costantemente, sono stata costantemente in ospedale sin dall'infanzia. Per la crescita la cancellerei, perché sto proprio guardando i periodi dell'infanzia. La mia idea è molto chiara. Io sono vaccinato, credo che i vaccini siano utili. Sono d'accordo con la medicina classica che sostiene che bisogna vaccinarsi, quindi... Ma in questo caso qui non saprei bene come commentare. Di sicuro ognuno è libero di fare ciò che vuole. La buona logica secondo me sarebbe dire forse è meglio fare un po' più di informazione nel caso e poi magari scegliere sarebbe la normale conseguenza.